Ben ritrovati allo spazio delle previsioni nel tempo a cura di MeteoInCalabria.it. Anche i prossimi giorni saranno caratterizzati da tempo stabile e temperatura sopra le medie del periodo. Un leggero calo inizierà da domenica, ma resteranno molto gradevoli. Infatti il promontorio anticiclonico continuerà ad espandersi dal Mediterraneo centrale verso l'Europa centro-orientale. Si prospetta quindi un fine settimana dal sapore quasi estivo. Passiamo alla previsione in dettaglio per la Calabria. Oggi cieli sereni o poco nuvolosi, con possibili momentanee coperture a causa del passaggio di nubi alte e stratificate, temperature stazionare o tutt'a più leggera diminuzione. Domani generano i condizioni di cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso della giornata possibili momentanee coperture per il passaggio di nubi alte e stratificate, temperature stazionare che saranno di alcuni gradi al di sopra delle medie del periodo. Ora il concetto sguardo a mari e venti. Oggi da poco mosso a mosso il terreno con debole ventilazioni dai quadranti meridionali. Sullo Ionio mosso il Golfo di Corigliano e poco mosso altrove, con venti moderati di scirocco. Domani mosso il terreno, da poco mosso a mosso l'Oionio. I venti speneranno dai quadranti meridionali, deboli sul terreno e da debole a moderato sull'Oionio. E infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.metoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meto in Calabria. Per la puntatoria è tutto, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti.